In questo video creiamo un nuovo stato e vedremo come spostare la logica di un reducer in una funzione esterna. Nel momento in cui vogliamo aggiungere un nuovo stato al nostro store è sufficiente inserire un nuovo provide state con una nuova chiave per esempio counter che in questo caso restituirà semplicemente un oggetto con la proprietà value inizializzata a zero. Andiamo poi nella nostra applicazione nel pannello redax dev tool troviamo infatti nel tab state il nuovo stato counter. Ma il nostro reducer ora è definito in line e difficilmente lo scriveremo in questo modo perché vorrebbe dire che il nostro stato rimane con il valore di inizializzazione e non sarà più aggiornato mentre il reducer ha due compiti quello di inizializzare lo stato ma anche di aggiornarlo sulla base di alcune azioni che poi invieremo. Di conseguenza visto che dovremo inserire alcune parti di codice all'interno di questo reducer di solito si iscrive in un file esterno e quindi creiamo una cartella store con il file all'interno counter.reducer. In questo file non faremo nient'altro che definire una nuova funzione utilizzando in questo caso un arrow function e che restituisce il nostro stato quindi un oggetto con value valorizzato a zero. Andiamo ora in app config e sostituiamo la funzione scritta in line con quella che abbiamo appena creato. Per esempio se valorizziamo adesso il counter a 1 2 3 andiamo nei dev tool e vedremo subito come il nostro counter ha questo nuovo valore a dimostrazione che la nostra funzione viene effettivamente invocata e inizializza lo stato. Una descrizione più dettagliata di tutti questi argomenti con la teoria, i diagrammi e diverse informazioni tecniche compreso anche il codice sorgente la trovate nel libro Energy Xbook sul sito Learn by Doing.